Per realizzare un embossing a caldo avremo bisogno di Polveri per embossing di qualsiasi tipo e colore Un inchiostro a tampone trasparente per embossing, che ha la caratteristica di asciugarsi molto lentamente, così si ha il tempo di applicare le polveri Dei timbri vanno bene di qualsiasi tipo, anche questi da montare Quindi, ovviamente, il blocco acrilico dove montare il timbro Un contenitore come questo per le polveri in eccesso E la Heat Gun, che emette solo calore e non aria, in questo modo non farà volare le polveri Iniziamo bagnando il timbro con l'inchiostro Quindi, timbriamo sul cartoncino Ora, sopra il contenitore, cospargiamo il timbro di polvere bianca Una volta eliminati gli eccessi di polvere, utilizziamo la Heat Gun per scaldare i granuli e farli sciogliere Utilizziamo il contenitore per recuperare la polvere inutilizzata Ripuliamo il timbro con una semplice salvietta umida Ripetiamo la stessa operazione per la polvere trasparente Che creerà solamente un tono su tono sul cartoncino Ripetiamo la stessa operazione per la questione Infine, utilizziamo una polvere glitterata color oro. Grazie per la visione! Alla prossima e buon lavoro!